Quattro rulli tutti sempre, tre jackpot da 15.000 dollari, hai idea di quante siano le probabilità? Sicuro, deve essere una su un milione, forse di più. Tre cazzi di jackpot in 20 minuti soli? Perché non hai bloccato le macchine? Mi chiamavi? È successo così in fretta, tre hanno vinto, non ho fatto in tempo a chiamarla. Non hai visto la fregatura? Non hai visto che succedeva? Non c'è modo di prevederlo, Sam. Sì che c'è, ed è infallibile anche, hanno vinto! Beh, è un casino, la gente deve vincere qualche volta. Senti, Ward, mi sto incazzando a morte, ora insulti la mia intelligenza, ma che credi? Che sia un coglione? Lo sai benissimo che qualcuno ci ha dovuto mettere le mani e sistemare quei maledetti rulli. Le probabilità su una macchina a quattro rulli sono di una su un milione e mezzo, su tre macchine di fila, di una su miliardi, non può succedere, non dovrebbe succedere. Deficiente, cazzone, ma che ti prendi? Non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita? Credo proprio che... Sì, non hai capito che ti stavano fregando alla seconda vincita? Credo proprio che lei stia esagerando in questa situazione. Aspettimi bene, capone, ne ho abbastanza di te, ti ho parato il culo in questo posto da quando sono arrivato. Prendi le tue chiappe, le tue cose e sparisci. Mi sta licenziando? Ti sto licenziando? No, non ti sto licenziando, ti ho licenziato. Potrebbe pentirsene, signor Rothstein. Bene, pentirei di più se ti lasciassi continuare. Non si trattano così le persone. Se non hai capito che ti imbrogliavano sei troppo stupido per avere questo posto. Se l'hai capito eri d'accordo, in ogni caso sei fuori, vattene. Coraggio, andiamo. Grazie.